Emergenza climatica, Papa Francesco invia un messaggio ai partecipanti alla conferenza di Madrid COP25 contro il riscaldamento globale, una sfida di civiltà, anzioni ancora troppo deboli, dice il Pontefice. Il servizio di Ignazio Ingrao. C'è il sole quando Papa Francesco arriva in piazza San Pietro per l'udienza generale, ma Bergoglio è preoccupato per i cambiamenti climatici, per mitigare gli effetti negativi del cambiamento del clima e aiutare le popolazioni più povere e vulnerabili. È una sfida di civiltà a favore del bene comune e delle future generazioni, conclude il Pontefice. Nel corso dell'udienza generale Francesco lancia poi un altro appello a tutti i cristiani. Attenti alla magia, se credi in Gesù Cristo non puoi andare a farti fare i tarocchi. La magia non è cristiana. Nel messaggio inviato ai partecipanti alla conferenza di Madrid, il Pontefice lancia l'allarme. Ancora troppo debole, dice l'azione dei governi, per difendere il futuro del pianeta. Le parole sono lontane dalle azioni, denuncia Francesco. Gli impegni attuali degli stati per mitigare il cambiamento climatico sono distanti da quelli fissati dall'accordo di Parigi. Dobbiamo chiederci, dice Bergoglio, se c'è una volontà politica per stanziare più...